596 persone controllate, 82 siti ferroviari ispezionati, di cui 70 stazioni, una sanzione elevata, 77 gli operatori della Polizia Ferroviaria della Sicilia impegnati nella terza operazione Rail Safe Day, svoltasi ieri e disposta su tutto il territorio nazionale dal servizio Polizia Ferroviaria al fine di individuare comportamenti scorretti in ambito ferroviario che pregiudichino la sicurezza della circolazione e degli utenti. I controlli sono stati incentrati sulle condotte scorrette come il mancato utilizzo dei sottopassaggi, l'attraversamento dei passaggi a livello con le sbarre chiuse, il superamento della linea gialla in attesa dei treni e più in generale la mancata osservanza delle regole vigenti negli impianti ferroviari.